Bentornati in questo giovedì con Cemi con i capelli bagnati perché ho fatto una cosa sotto la pioggia. Oggi siamo qui per raccontarvi 5 fatti, proprio speciali, migliori, fantastici, uno per il membro del Mario Kart 40 fratto 5. Partiamo senza indugio col primo fatto che riguarda il nostro amato Chierico, che conduce gli episodi del sabato. Lui incredibilmente, lo so può non sembrare vero, ma non ha recitato come Igor o Igor, per dir si voglia, nel film Frankenstein Jr. Fatto numero 2. Meig, ma che il grande, lo conoscevo quando non aveva i capelli lunghi. So che è incredibile, non alleggo foto per evitare di far vedere anche me stesso, non con i capelli lunghi. Fatto numero 3. Paolo, appunto, JPG, famoso, ha suonato il violino per circa un mese e poi è incredibilmente smesso. Fatto numero 4. Su di me, Chime, il vostro Chime. Ho un umorismo veramente terribile. Rido, 16 palle. Numero 5 sul nostro Yoshim, che conduce la domenica, è italiano. Perché c'è nato in Italia. Razzisti. Razzisti. Razzisti.